Regola fondamentale numero uno del marketing assicurativo. Sei unico al mondo, nessuno è come te. Ricordiamocelo, questa è la cosa fondamentale. Da qua parte tutto e mi spiego. Perché un cliente dovrebbe venire da te ad acquistare una polizza? Per quale motivo? Perché da te e non da un altro? Sapete perché? Perché sei unico. L'unica cosa, l'unica cosa che ti differenzia dagli altri è che sei unico, che sei te stesso. Non è il marchio della compagnia, quanti hanno il marchio come te. Non è neanche la professionalità, perché sono tanti meno bravi di te, ma anche tanti bravi come te. Qualcuno anche magari più bravo di te, quindi non è neanche la professionalità. Non è neanche il posto, perché nella tua città ce ne saranno tanti. Quindi qual è la vera differenza? Te stesso. Te stesso sei unico, con i tuoi pregi e con i tuoi difetti. Questa è la base. Ecco perché dico sempre di non pubblicizzarvi mai col nome della compagnia. Mai col marchio della compagnia. Non siete un qualcosa di replicabile. Il nostro lavoro è qualcosa di umano. Noi facciamo relazioni umane, per cui la vera differenza non lo fa il marchio della compagnia, non lo fa il prodotto, non lo fa la garanzia. Lo fate voi stessi, con i vostri pregi e i vostri difetti, come vi ho detto. Non dovete nasconderli, dovete essere reali. Quindi, se vuoi differenziarti dal resto, devi essere te stesso. Devi fare una comunicazione che rappresenti al 100% te stesso. E sarai sicuro di essere unico, di essere differenziante. Questo viene premiato oggi dal marketing. Questo oggi piace alla gente. La verità, il fatto di essere unici. Quindi ricordati questa regola, la regola fondamentale numero uno. Per seguire tutte le regole, che sono dieci, le regole fondamentali del marketing, e tutti i video di formazione che facciamo, metti un mi piace e iscriviti al nostro canale YouTube. Così io non li vedi di volta in volta. Tra l'altro puoi anche commentare e possiamo interagire. Ma perché Massi mi dici queste cose anziché quest'altra? Come mai? Qualsiasi domanda va benissimo. Parliamone, perché è importante creare la cultura del marketing assicurativo. Ciao.